Quel giorno a casa lui tornò più presto come non faceva quasi più e la guardò in un modo ben diverso come non faceva quasi più e non parlò più dell'omento unico argomento dei discorsi suoi con una strana tenerezza e un poco di amarezza disse andiamo fuori vuoi e allora lei si fece bella come il giorno che di lui si innamorò cercò nel fondo del cassetto quella camicetta che le regalò e lui la tenne per la mano come la teneva tanto tempo fa come un ragazzo e una ragazza scesero alla piazza e incominciavano a ballar il suono della loro danza il vicinato addormentato si affacciò e scese sulla piazza scura e molta gente giura che si illuminò e furono baci rubati i gridi soffocati che nessuno soffocò che il mondo fece suoi in pace l'alba poi spuntò non ho purtroppo non ho purtroppo Grazie a tutti. Grazie a tutti.